... Grazie. 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 Grazie a Cristina, a Benedetta e a Domenica in appuntamento domenica domenica anche con il nostro quadro lì. Questa sera, a proposito dei nuovi programmi, parte anche Celebration, che c'è una nostra meravigliosa campionessa di quale, Serena Rossi, con Levi Marco Resch, e poi permettetemi che un applauso speciale per il direttore di Regione, Andrea Fabiano, che lascia il suo incarico per andare a Regione 2. Quindi, Andrea, grazie di questi mesi meravigliosi che stiamo iniziando e un benvenuto al nuovo direttore. Ecco, ecco lì, Andrea. Bocca nuova.